Di Genova dunque centrocampista del Campopasso Unióres, il campionato che prosegue saranno tutte partite da vivere al massimo fino al termine della stagione per mantenere questo vantaggio sulle seconde? Sì, da adesso in poi sono tutte finali, mancano sei partite al termine del campionato, dobbiamo rimanere in testa della classifica, abbiamo l'obbligo morale di crederci e cercheremo fino alla fine di raggiungere questo risultato. Se mi permetti vorrei farti un complimento perché ti sei inserito in un gruppo che già si era abbastanza formato lo scorso anno, hai giocato sempre e devo dire che sei molto cresciuto da inizio stagione quindi ti volevo fare un complimento personale, l'ho detto più volte anche in cronaca, però devo dire che con questa voglia, con questa intensità sono convinto che potete togliervi delle belle soddisfazioni. Ti ringrazio per il complimento personale, sono contento di essere in questo gruppo, è un gruppo straordinario per questo ringrazio a tutti i miei compagni, il mister e i direttori per il bel gruppo che hanno creato perché è merito tutto nostro e anche della società. Comunque ti ringrazio e speriamo che la tua previsione sia vera. Comunque ti ringrazio e speriamo che la tua previsione sia vera.